Bene amici di androidblog.it, oggi proviamo la registrazione in full hd del MIUI M680 nonostante la pronuncia non sia sicuramente questa, vediamo come si comporta la fotocamera da 13 megapixel di questo smartphone sotto le condizioni più disastrose che abbiamo oggi nel nostro paese proviamo subito un cambio di messa a fuoco, come vedete è abbastanza veloce proviamo anche, vedete come si riadatta abbastanza velocemente proviamo anche un controluce per quanto sia possibile visto che il sole oggi ci ha letteralmente abbandonati e proviamo anche a zoomare con ovviamente zoom digitale fino a 4x vedete la qualità non è delle migliori ma dopo aver messo a fuoco la qualità diciamo migliora decisamente ricordo video in full hd con MIUI M680